Credo che il saggio, sapiente lavoro della procura saprà arrivare a determinare le responsabilità e a punire adeguatamente chi ha sbagliato, chi ha commesso un errore in nome del Dio profitto, perché questo è il punto della lettura. Però attenzione, se non vogliamo essere retorici, vogliamo essere fino in fondo consapevoli e domandare perché quell'orditura si trova a fare questo. Io voglio sperare, mi auguro, voglio sperare, essere forse anche in Genova, ma voglio sperare che quella persona, il titolare di quell'orditura, che lavorava lì, vorrei ricordare, insieme al figlio, quindi accanto a quella macchina, a un certo punto abbia consapevolmente o inconsapevolmente, lo scopriremo, lo scoprirà, ce lo dirà il processo, ma hanno messo i sistemi di sicurezza per produrre di più, per soddisfare l'ordine che gli veniva da qualcun altro perché quella pezza doveva essere consegnata in tempi e con costi non sostenibili? Attenzione, allora questo ci deve, ci deve necessariamente coinvolgere tutti in un ragionamento che certo non esime da colpa, che certo non è che toglie la responsabilità di chi ha commesso il fatto di togliere le sicurezze da quel macchinario, ma dobbiamo iniziare a pensare anche che cos'è il sistema di filiera e i costi finali. Bisognava che la titolare dicesse no, io a quel costo e a quel prezzo, con quei tempi, io quella pezza non la ordisco, ma siamo sicuri che ci sarebbe stata un'altra orditura che avrebbe fatto lo stesso. Allora, se non vogliamo che la tragica dolore della famiglia d'Orazio non resti vano, oltre alla sacrosanta punizione di chi ha sbagliato, ci vuole anche una riflessione più profonda su quello del sistema produttivo complessivo.